Borgia, una dinastia di potere e scandali. I Borgia furono una famiglia spagnola che dominò la scena politica e ecclesiastica italiana a cavallo tra il XV e il XVI secolo. La loro storia è ricca di intrighi, scandali e misfatti, che li hanno resi una delle dinastie più controverse della storia. I Borgia in Spagna. La famiglia Borgia ha origine a Iativa, in Spagna, nel XIII secolo. Inizialmente, i Borgia furono una famiglia di piccoli proprietari terrieri, ma nel corso dei secoli riuscirono a accumulare una notevole ricchezza e potere. Nel XIV secolo, un membro della famiglia, Rodrigo Borgia, fu nominato cardinale da Papa Clemente VII. Rodrigo Borgia, Papa Alessandro VI. Nel 1492, Rodrigo Borgia fu eletto Papa con il nome di Alessandro VI. Il suo pontificato fu caratterizzato da un forte nepotismo, che gli valse l'accusa di corruttela e immoralità. Alessandro VI favorì i suoi figli, Cesare e Lucrezia, nelle loro carriere ecclesiastiche e politiche. Cesare Borgia, il condottiero. Cesare Borgia fu un condottiero e politico. Nel 1499, conquistò il Ducato di Romagna, che divenne il suo feudo personale. Cesare Borgia era un personaggio ambizioso e spietato, che non esitava a usare la violenza per raggiungere i suoi obiettivi. Lucrezia Borgia, la sposa. Lucrezia Borgia fu una donna affascinante e intelligente, ma anche vittima delle ambizioni dei suoi familiari. Fu sposata quattro volte, in matrimoni combinati per rafforzare il potere dei Borgia. La fine dei Borgia. La dinastia dei Borgia iniziò a declinare dopo la morte di Alessandro VI nel 1503. Cesare Borgia fu sconfitto dal re di Francia e costretto a fuggire da Roma. Lucrezia Borgia si ritirò a vita privata e morì nel 1519. L'eredità dei Borgia. I Borgia sono una delle dinastie più controverse della storia. Il loro nome è sinonimo di potere, scandali e misfatti. Tuttavia, i Borgia furono anche dei personaggi importanti nella storia italiana e europea. Cesare Borgia, in particolare, fu un abile condottiero e politico che ebbe un ruolo significativo nella riorganizzazione dell'Italia del XVI secolo. Alcuni dei principali scandali legati ai Borgia. Il nepotismo di Alessandro VI, che favorì i suoi figli, Cesare e Lucrezia, nelle loro carriere ecclesiastiche e politiche. La presunta relazione incestuosa tra Cesare e Lucrezia Borgia. L'omicidio di Alfonso d'Aragona, fratello di Lucrezia Borgia, per mano di Cesare Borgia. L'omicidio di Quam Borgia, fratello di Cesare e Lucrezia Borgia, per mano di Cesare Borgia. I Borgia nella cultura popolare. I Borgia hanno ispirato numerose opere di letteratura, cinema e televisione. Tra le opere più famose ricordiamo, il romanzo I Borgia di Alexandre Dumas, 1839. La serie televisiva I Borgia, 2011-2013. Il film The Borgias, 2006. I Borgia continuano ad affascinare e a suscitare curiosità, anche a secoli di distanza dalla loro scomparsa. La loro storia è un potente affresco di potere, ambizione e corruzione, che offre uno spaccato affascinante ma inquietante della società italiana del Rinascimento.